Ci troviamo nell'uliveto dove oggi iniziamo a capire come è la situazione olive. Dire olive è un po' troppo presto, ad oggi. E ovviamente ci facciamo un giro per vedere quanto è in fiore l'uliva ad oggi. Ovviamente subito dopo la sigla. Benvenuti sul canale Paoletti's Farm. Vi siete iscritti al canale? Se non l'avete fatto iscrivetevi al canale YouTube Paoletti's Farm e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. Oggi siamo nell'uliveto per vedere un po' com'è la situazione delle olive. È presto dire olive, ma vediamo insieme. Allora questo possiamo vedere già com'è un po' la situazione. E sembra che sia un'annata abbastanza ricca, come possiamo vedere anche tutto qui. Vediamo anche sotto. Al momento, anche se il tempo non è stato molto clemente, vedete tutta la parte sotto. Queste qua comunque sono piante portate a vaso policonico e voi sapete che la produzione è nella parte medio-bassa. Quindi in questa zona giù vedete molta vegetazione, proprio perché il vaso policonico permette la produzione nella zona medio-bassa. E le punte ci sono queste tipo antenne, come vengono dette. Continuiamo a vedere la situazione delle olive. Se vediamo anche da quest'altra parte, vi faccio vedere un po' tutto. Vedete come sono cariche qui. E già si iniziano a vedere delle piccole olive, perché già c'è stata la fioritura. Questi sono dei fiori che stanno maturando, che stanno trasformando in olive. Vedete ancora questo è un albero a caso. Andiamo a vedere poi anche altri alberi. Questa è la situazione. Questo è un oliveto vaso policonico. Voi sapete che ho tutti i uliveti, sono a vaso policonico. E vedete anche la grandezza delle olive, degli ulivi, tipo questo. E qui si farà una buona raccolta. Proseguiamo e andiamo a vedere anche gli altri alberi. Ci siamo spostati da quest'altra parte. Possiamo vedere la situazione. Sempre belli carichi, per fortuna fino adesso. Possiamo vedere sempre nella parte medio-bassa. Non so se riuscite a vedere. Guardate quanti. Anche in tutta questa zona sotto. Vedete quanti ce ne sono. Se ci spostiamo da quest'altra parte dell'albero. Vedete anche sopra. Quanti ce ne sono. Scendiamo giù. Possiamo vedere sempre che sono abbastanza carichi. Continuiamo. Vediamo tutte le branche che scendono. Belle cariche. Possiamo vedere tutta questa zona. Spero che si possa vedere dal video per bene. Vedete come sono belle cariche. E quindi sembra che sia un'annata davvero positiva. Speriamo che continui così. Continuiamo a vedere tutta questa parte. Quante piccole olive. O comunque si stanno trasformando in piccole olive. Sulla parte bassa ancora. Vedete quante ce ne sono. Vedete tutto sotto. Ovviamente come tutti gli anni. Noi facciamo un tour. Almeno una volta al mese. Ci troviamo a fine maggio. Inizio giugno. E questa è la situazione. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando condividete questo video. Iscrivetevi al canale YouTube Paoletis Farm. E attivate la campanellina. Così verrete aggiornati ogni volta che c'è un nuovo video. Ovviamente io ho anche altri social. Come Instagram, Facebook e TikTok. Ciao alla prossima. Ciao alla prossima.